Un incontro destinato ad avere una eco forte, quello di Papa Francesco con i familiari delle vittime di mafia. C'è attesa per le parole del Pontefice che lancerà forte l'atto d'accusa contro la violenza mafiosa, che nella strage di Palagiano non ha risparmiato neanche i bambini. L'appuntamento è per questo pomeriggio nella chiesa romana di San Gregorio VII alle 17.30. La data non è casuale. È stata scelta perché è la vigilia della XIX giornata della memoria dell'impegno, promossa dalla Fondazione Libera di Don Luigi Ciotti e da altre associazioni in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. A Roma arriveranno da tutta Italia 700 familiari delle vittime delle mafie, in rappresentanza di circa 15.000 persone che hanno subito il dolore della perdita di un loro caro per mano della violenza mafiosa. Alle 17.30 è prevista a Roma la veglia di preghiera presieduta dal Papa, con tutti i familiari accompagnati dai rappresentanti territoriali di Libera, dai referenti di alcune delle 1.600 associazioni aderenti e dai rappresentanti istituzionali che hanno confermato la loro partecipazione. La veglia con Papa Bergoglio nella parrocchia di San Gregorio VII durerà fin verso le 19.00. Domani invece, per le vie di Latina, si ritroveranno in un grande abbraccio ai familiari migliaia di persone, soprattutto giovani, provenienti da tutta Italia. Dopo il corteo e la lettura dei nomi delle vittime di mafia, sono previsti 25 seminari, laboratori e spettacoli sui temi della legalità e dell'impegno civile contro le mafie. Per i familiari delle vittime innocenti delle mafie, l'incontro con Papa Francesco è un dono, ha dichiarato Don Ciotti, presidente di Libera, sottolineando che sarebbe bello che il 21 marzo diventasse istituzionalmente per tutti gli italiani ciò che è per i familiari delle vittime, e cioè il giorno in cui i loro cari, in tante città d'Italia, vengono chiamati per nome uno a uno in un appello rivolto alle coscienze di tutti.